Buongiorno a tutti, oggi vedremo la seconda parte della lezione sull'MTF. La scorsa settimana, quindi nella lezione del 23 marzo, abbiamo visto sostanzialmente come fare a effettuare un test di tipo soggettivo della qualità dei sistemi di ripresa tramite la mira ISO 12233 e che fa parte del laboratorio numero 2 da svolgere in laboratorio, anche se ovviamente qui viene svolto a casa per ovvi motivi. Mentre oggi vedremo la seconda parte. La seconda parte riguarda l'utilizzo di un altro software che si chiama MTF Mapper che deve servire per effettuare il calcolo dell'MTF, questa volta dunque non in modo soggettivo ma in modo oggettivo. Ora, la volta scorsa ci siamo sostanzialmente fermati qui, abbiamo in realtà visto anche alcune cose subito dopo perché abbiamo visto per esempio, ovviamente abbiamo visto l'ISO 12233 e quindi abbiamo visto alcune slide sulla mira ma oggi io vorrei vedere, vorrei continuare, quindi vedete che eravamo partiti dal concetto di contrasto oggi io partirei di qua e cioè dal fatto che sostanzialmente questa, la mira USAF, quella che avevamo visto la volta scorsa può venire usata appunto per fare delle riprese in modo tale da effettuare dei test e vedete qui un esempio di fotografia di test effettuata a grande distanza, vedete a più di 16 metri di distanza con un obiettivo, di fatto è un piccolo telescopio, un obiettivo da 120 mm in modo tale da riprodurre con un rapporto di ingrandimento di 1 a 4, quindi significa abbastanza vicino all'originale complessivamente il dettaglio della mira, vedete questi sono i blocchi 2, il blocco 3 e così via bene, comunque a parte questo, questa formula in particolar modo la vedremo più avanti e direi questa slide nello specifico in parte sappiamo cosa c'è scritto però non mi concentrerò eccessivamente, vedete qui parla di terzo gruppo, terzo elemento che abbiamo visto la volta scorsa, dipende dal numero di gruppo e dal numero di elemento quanti cicli per millimetro ci sono, poi qui veniva fatto un conto considerando che questa immagine era stata scattata con una telecamera a 20 di pixel da 3,75 micron comunque non ci concentriamo più di tanto su questo, invece passiamo alla definizione formale di MTF allora MTF significa funzione di trasferimento della modulazione, Modulation for Answer Function ed è di fatto il rapporto tra la modulazione d'uscita e la modulazione d'ingresso quindi se io inserisco in fila un'onda sinusoidale in un sistema che è di fatto una black box, cioè una scatola nera questa onda sinusoidale attraversa questa scatola nera ed esce più o meno alterata ok? Ora l'MTF mi dice di quanto esce alterata in ampiezza perché voi capite che io inserisco la sinusoidale e la sinusoidale può uscire per esempio spostata in avanti o indietro, quindi traslata di fase che è quello che succede se per esempio io inserisco una sinusoidale all'interno di un circuito elettrico contenente un componente reattivo, quindi potrebbe esserci una capacità o un'induttanza in questo caso l'onda viene anticipata o ritardata, ma non è questo il caso invece se noi come componente utilizziamo un resistore il resistore cosa farà? Ridurrà l'ampiezza picco picco dell'onda ok? Ora l'MTF è esattamente quello, cioè il rapporto tra l'onda in ingresso e l'onda in uscita e di fatto è quanto è forte questo resistore, cioè quanto attenua questa specie di partitore di tensione anche se io cambio il guadagno del sistema l'MTF non cambia la modulazione cambia, cioè il picco picco cambia però l'MTF non cambia perché comunque sia sempre un rapporto e l'MTF è basato sulla frequenza per cui se io infilo nel mio sistema, nella mia scatola nera, infilo 10 Hz magari la mia funzione di trasferimento della modulazione mi darà 0,5 significa che se io infilo 3 volt picco picco ne escono fuori 1,5 picco picco e mentre invece se infilo dentro 20 Hz magari non è più 0,5 è 0,6 o 0,4 non lo so, dipende ok? Ebbene qui noi non ci occupiamo ovviamente di segnali monodimensionali ma di segnali bidimensionali ma il concetto è esattamente lo stesso cioè io inserisco una frequenza bidimensionale all'interno del sistema questa viene diciamo attenuata, amplificata a teoria potrebbe ma in pratica no viene attenuata ed esce fuori attenuata e io voglio sapere di quanto viene attenuata considerando che a frequenza 0 questo valore vale 1 ok? E poi via via andrà a scendere esiste anche un massimo teorico che vedremo più avanti oltre al quale in effetti noi non possiamo andare e vedremo anche come applicando certi filtri tra cui l'anshark mask noi possiamo addirittura superare il limite teorico naturalmente in modo fittizio chiaramente ebbene quindi abbiamo visto cos'è l'MTF però da un altro canto abbiamo anche possiamo dire che dato un sistema ottico se noi diamo a questo sistema ottico un impulso che cosa sarà un impulso? Sarà una delta una delta cosa può essere? Ovviamente è un impulso infinitamente stretto che però contiene tutte le frequenze quindi di fatto dovrebbe avere una energia infinita ebbene che cos'è un impulso infinitamente stretto? Beh una stella, la luce di una stella che è infinitamente stretta perché è molto lontana quindi è strettissima e al tempo stesso in teoria dovrebbe contenere tutte le frequenze notare bene spaziali chiaramente non è possibile ottenere una cosa del genere dal punto di vista fisico comunque sia nel momento in cui noi iniettiamo l'impulso all'interno del nostro sistema otteniamo un'immagine in uscita e questa immagine è proprio un'immagine diciamo catturabile tramite una macchina fotografica e questa immagine è chiamata point spread function che probabilmente avete già visto nel corso precedente che è nient'altro che come un punto viene spread cioè diffuso, spalmato a seguito dell'applicazione di una funzione di trasferimento data dalla nostra scatola nera che può essere un obiettivo, un sensore, una stampante, può essere qualsiasi cosa ok? Ora supponendo di avere un'apertura circolare ideale infatti normalmente tutti gli obiettivi hanno un'apertura circolare magari non perfettamente ideale ma circolare il risultato che viene fuori da questa cosa è che la PSF ammesso che l'obiettivo sia in perfetto stato la parte centrale è il cosiddetto disco di ERI che vedremo più avanti ora l'occhio umano è un sistema ottico pertanto anche lui avrà la sua PSF è possibile vedere la sua PSF? Beh per esempio se quando noi guardiamo una stella in cielo ovviamente noi con la nostra retina vediamo la sua PSF perché naturalmente registriamo la stella che è di fatto l'equivalente di una delta passata attraverso il nostro sistema ottico per la verità il nostro occhio non è in grado di vedere dei dettagli particolarmente fini perché come è noto noi abbiamo una precisione di visualizzazione abbastanza grossolana nel senso che riusciamo a vedere dettagli di un minuto d'arco in alcuni casi riusciamo a scendere però sono casi particolari quindi con una stella artificiale che altro non essendo una lampadina con davanti un foro molto piccolo possiamo vedere questa PSF o anche con appunto con delle stelle reali però il disco di ERI non è visibile occhio nudo proprio perché è molto piccolo e quindi noi non riusciamo ad intravederlo però ciò non toglie che se voi guardate una stella se voi guardate le stelle di notte vedrete che la maggior parte delle stelle hanno le punte non hanno proprio la forma di un puntino hanno delle punte la posizione delle punte dipende da persona a persona in realtà queste punte ovviamente non esistono e sono dovute al fatto che praticamente tutte le persone sono soggette ad un minimo di astigmatismo e l'astigmatismo è quello che induce appunto queste punte da cui poi il fatto che i pittori dipingano le stelle anche i bambini dipingano le stelle con le punte e anche il sole è per assurdo ok? bene quindi H minuscolo è la risposta che sarebbe la point spread function se noi facciamo la trasformata di furie di H minuscolo ottiamo H maiuscolo che sarà basata ovviamente sulle frequenze ed è l'optical transfer function H grande di UV ora la domanda successiva è come si relaziona questa H grande con l'MTF perché chiaramente le due cose devono essere in qualche maniera correlate ebbene sì sono pesantemente correlate significa che se voi prendete nel complesso il sistema e il sistema ovviamente non è composto dal solo sistema ottico quindi dell'obiettivo ma anche da tutta un'altra serie di cose per esempio c'è il sensore il sensore è un pezzo importantissimo è chiaro che il sensore se ha dei pixel molto grandi automaticamente sarà lui a fare da limite intrinseco al sistema nel suo complesso inoltre essendo il sensore essendo il campionatore se la frequenza di campionamento non è adeguata a quello che fuoriesce dal sistema ottico cioè dalla lente si avrà aliasing quindi nel complesso io ho una funzione di trasferimento ottico nel dominio delle frequenze che si chiama OTF OTF Optical Transfer Function e noi la possiamo chiamare OTF di UV dove UV sono le due coordinate spaziali diciamo X e Y ebbene questa sarà uguale se ci limitiamo diciamo a non considerare gli effetti dell'elettronica perché l'elettronica potrebbe avere altri effetti particolari e qui diremo tra poco poche parole in più se prendiamo solo l'effetto spaziale verrà fuori H spaziale di UV ebbene cosa sarà? beh voi capite che una trasformata di furia è un numero complesso mentre l'MTF come l'abbiamo descritto prima noi è un numero reale e allora c'è qualcosa che non quadra nel senso che questa OTF deve essere qualcosa in più dell'MTF e in effetti è così nel senso che l'H è MTF di UV moltiplicato per E alla JPTF di UV quindi significa che l'MTF è la magnitudine e la PTF è la fase se poi noi oltre alla trasformata spaziale vogliamo anche considerare l'elettronica l'elettronica sarà correlata più che a U e a V a una frequenza diciamo elettronica ok? diciamo al comportamento dell'elettronica nel suo complesso e questa a sua volta avrà un MTF legato alla frequenza più scusate per e alla JPTF quindi in sostanza quello che noi abbiamo descritto prima come quello che vogliamo misurare nella seconda parte del laboratorio in realtà ad essere precisi è solo una parte teoricamente neanche così importante del complesso ok? tuttavia se il motivo per cui noi nel laboratorio misureremo solo l'MTF è che effettivamente e fortunatamente la funzione OTF pur essendo in teoria complessa di variabile complessa in realtà di solito è reale perché la sua parte immaginaria è ben poco significativa quindi questo o quasi nulla o addirittura nulla quindi a questo punto noi possiamo dire che OTF è uguale ad H che è uguale a MTF ci sono peraltro dei casi molto particolari in cui l'OTF può essere negativa o perfino complessa come in effetti potrebbe essere tranquillamente e quando è che è complessa? quando ci sono per esempio degli spostamenti di fuoco focus shift oppure aberrazioni lo spostamento del fuoco avviene paradossalmente in casi molto comuni per esempio se noi abbiamo un obiettivo e chiudiamo il diaframma ebbene in teoria chiudere il diaframma significa ridurre la quantità di luce che entra nel sistema ma in realtà se voi prendete l'obiettivo e chiudete il diaframma vi renderete conto che in molti obiettivi anche di grande pregio c'è un piccolissimo spostamento del fuoco nel senso che la messa a fuoco per esempio a F2,8 non è uguale alla messa a fuoco a F5,6 per veramente delle sciocchezze ora di solito questo focus shift è in realtà legato a problemi dell'obiettivo perché anche i migliori obiettivi hanno comunque delle limitazioni e quindi queste piccole problematiche che sono di fatto aberrazioni ottiche inducono problemi nell'MTF quindi nell'OTF per quanto riguarda la funzione di trasferimento di tipo elettronico è legata più che altro alla risposta temporale dei circuiti elettronici quindi non soltanto all'ottica anzi direi che l'ottica in questo caso non c'entra quasi nulla per esempio fino a qualche anno fa quando i sistemi avevano erano basati su tubo catodico tubi catodici era abbastanza ragionevole supporre che vi fosse un ritardo all'interno del sistema legato al fatto che il cannone elettronico a volte non riesce non riusciva per varie ragioni non riusciva a seguire esattamente il passo e quindi c'erano delle piccole non linearità e queste non linearità si trasformavano tutti gli effetti in ritardi o anticipi del cannone elettronico per cui se voi ci fate caso questa otf di fatto è l'equivalente di un'impedenza ok dove la parte resistiva è l'MTF e la parte diciamo reattiva quindi di ritardo di anticipo è dovuta a cause delle più varie nella per esempio nella stella di Siemens che abbiamo visto nella precedente lezione è interessante notare come effettivamente a causa del fortissimo agliasinger che si riproduce e quindi anche a problemi di altro tipo per esempio stigmatismo perché la stella di Siemens è in grado di evidenziare in modo molto vistoso la stigmatismo cioè la simmetria tra i due assi vedremo più avanti ebbene cosa succede sia che nel caso della stella di Siemens noi riusciamo a vedere addirittura un un cambiamento di fase e questo l'avevamo già intravisto brevemente ieri cioè parti che dovrebbero essere chiare diventano scure e poi ridiventano chiare perché lo cambiamento di fase significa appunto che io sposto la fase e quindi quello che dovrebbe essere chiaro ridiventa scuro perché naturalmente procedendo nella semionda io ho prima lo scuro poi il chiaro e così via ok comunque in generale la funzione di trasferimento elettronica è legata alla risposta in termini di tempo mentre l'ottica è fortunatamente quasi sempre reale ok bene ora se noi andiamo a prendere la parte elettronica e quindi prendiamo queste frequenze elettroniche FDE ebbene esse possono essere convertite tra virgolette in spazio perché come vi ho detto prima ad esempio nel caso del cannone elettronico io converto diciamo queste non linearità in termini di frequenza in non linearità in termini spaziali ok e quindi in questo caso di solito viene modificato il segnale orizzontale solo il segnale orizzontale per cui noi potremmo dire che l'OTF del sistema nel suo complesso è legato all'MTF moltiplicata standard per l'MTF della frequenza elettronica che va a incidere su U per E alla J PTF UV quindi spaziale più PTF della FE anch'essa collegata a U ok considerando che questa parte di solito va interamente a zero e quindi anche questa e anche questa peraltro questa va a uno e quindi se tutto va bene rimane solo questo e volendo essere più precisi noi potremmo dire che la funzione di trasferimento ottico del sistema è data da H e sarà H spaziale di U per H di elettronica dove Fe va a incidere di nuovo su U mentre invece l'H spaziale di V è uguale a scusate l'H del sistema di V è uguale a l'H spaziale di V perché non c'è un effetto diretto normalmente ok ora voi sapete che se io ho un sistema composto da più sottosistemi e se io conosco le varie funzioni di trasferimento dei vari sottosistemi io posso ottenere la funzione di trasferimento totale moltiplicando tra di loro le varie funzioni di trasferimento questo è vero ed è vero anche quindi con gli obiettivi tuttavia c'è un problema questo è vero quindi che posso semplicemente moltiplicare tra di loro gli MTF soltanto se gli MTF sono indipendenti cioè se montando un sistema ottico a valle di un altro io non vado ad influenzare le aberrazioni o vantaggi o svantaggi dell'altro sfortunatamente in generale se io aggiungo del lenti o quant'altro la probabilità che si abbia una interferenza favorevole o sfavorevole è quasi una certezza quindi è per questo che normalmente l'MTF delle lenti non può essere calcolato semplicemente facendo il prodotto degli MTF e bensì è necessario ottenere un MTF complessivo ora facciamo ancora il punto su questo dopodiché passiamo a vedere quello che effettivamente noi vogliamo fare allora questa è la stessa immagine che c'era in quest'altra slide qua ok quindi la vediamo meglio quindi è una fotografia scattata da una considerevole distanza più di 16 metri ad una mira USAF allora la mira USAF come abbiamo visto nella precedente lezione è ottenuta tramite delle onde quadrice delle barrette quindi non sono delle sinusoidi ok ora questa fotografia è stata ottenuta a piena apertura cioè abbiamo 120 mm totali ok ora supponiamo di prendere questa apertura di questo obiettivo e in qualche modo di ridurla questo significa ridurla diaframmarla ok adesso vedremo meglio il concetto perché deve essere molto chiaro quindi magari prima di andare ulteriormente nel dettaglio andiamo a vedere il concetto di diaframma perché per chi di voi non fosse chiaro deve essere assolutamente semplice anche perché siccome poi in laboratorio dovrete effettuare delle misure vabbè a casa vostra comunque dovrete effettuare delle misure dovete avere ben chiaro come fare a gestire questo tipo di problema per cui andiamo qua ok allora cominciamo quindi io ho pensato di portarvi a vedere una macchina fotografica tradizionale in realtà perché perché è molto semplice e pertanto essendo molto semplice è molto facile da gestire ora questa macchina fotografica che ha circa una ventina d'anni è peraltro di ottima qualità è una macchina fotografica a pellicola come si può vedere e il principio generale di funzionamento è seguente molto simile alle reflex attuali la luce entra di qua poi qui c'è uno specchietto messo a 45 gradi la luce rimbalza va su finisce in questo oggetto chiamato pentaprisma che la riflette dal mirino che c'è qua dove c'è l'occhio ok se io per esempio vado a vedere attraverso il mirino vedete che io riesco a vedere il eccolo qua vedete se io mi avvicino in modo opportuno ecco quello è il campo inquadrato vedete che sulla sinistra c'è l'esposimetro in centro c'è il ecco vediamo se riesco a inquadrarlo vedete che in centro c'è un sistema per effettuare la messa a fuoco come vedete adesso si vede meglio e poi sopra c'è il diaframma insomma va bene comunque a parte questo cosa succede? succede che qui dietro c'è l'otturatore ok vedete se io lo apro vedete questo è l'otturatore quindi da questa parte esce la luce che passa attraverso l'obiettivo normalmente c'è lo specchio naturalmente qui si monta la pellicola qui qui c'è lo specchio quando io scatto la fotografia lo specchio si alza facciamo un esempio un attimo smontiamo l'obiettivo ecco qua allora vedete qui c'è lo specchio io adesso carico l'otturatore questa è una fotocamera meccanica lo metto per esempio a un millesimo di secondo scatto vedete vuol dire che lo specchio è rimasto alzato per approssimativamente un millesimo di secondo e poi si è aperto l'otturatore se io metto ricarico l'otturatore poi qui da metto anziché metto un secondo vedete si è alzato e sotto ho visto la pellicola che ovviamente non c'è quindi ho visto solo il pressa pellicola molto bene allora quindi l'unico parametro che c'è sulla macchina che si può controllare facilmente è il tempo di posa ok io lo posso cambiare bene ok e poi c'è l'obiettivo che è l'altro pezzo che è sostanzialmente quello che scatta veramente la fotografia allora guardate qui sull'obiettivo c'è un anello di riferimento che vedete che questo è chiamato diaframma che è quello che dicevamo poco fa ok quindi se per esempio qua c'è scritto F4 vedete che lui è solo parzialmente aperto ok quindi per esempio vedete che è solo parzialmente aperto dopodiché io quando apro ulteriormente la ghiera lui si apre di più per esempio così è F2 ok poi lo riporto F4 vedete che la metà di prima lo porto F8 e la metà di prima lo porto F16 e ancora la metà in termini lineari ok quindi questo significa che se è a F4 passerà più luce che a F8 ok perché il foro aumenta o si riduce quindi nella nella slide che abbiamo visto prima fate conto che nella prima fotografia questo foro che qui ha una certa dimensione l'aera di 120 mm quindi decisamente grande ora qui quanto è grande questo foro come facciamo a calcolarlo allora se volete vi prendete un diciamo un misur un qualche sistema di misura un calibro quello che volete lo potete misurare anche se in modo un po' approssimativo ma com'è che si fa a calcolare vedete la lunghezza focale di questo obiettivo è di 50 mm qui c'è scritto F4 quindi dovete fare 50 diviso 4 e vedete che quello lì il diametro sarà circa 12,5 mm se io lo metto a F2 50 diviso 2 fa 25 e questo dovrebbe essere il diametro chiaramente se io lo metto a F16 50 diviso 16 fa 3 mm e vedete che è diventato molto più piccolo di prima ok ora quindi il diaframma indica quanta luce esce quindi adesso noi prendiamo lo rimontiamo al suo posto quindi per scattare una fotografia io ho bisogno di tempo di posa cioè per quanto tempo rimane aperto l'otturatore cioè per quanto tempo la luce passa attraverso il foro ok questa è la dimensione del foro quanto è grande il foro lunghezza focale 50 diviso questo numerino qua ok perché si usa questo numerino perché in questa maniera si ha un'idea della dimensione totale del foro indipendentemente dalla lunghezza focale perché se io avessi un altro obiettivo il foro sarebbe fisicamente più grande o più piccolo ma il rapporto chiamato F su D rimane lo stesso rimane sempre F4 ok quindi utilizzando questo parametro e questo parametro io riesco a scattare la mia fotografia ok poi in più c'è la messa a fuoco vedete che qui c'è un anello di messa a fuoco vedete per esempio adesso è messo a fuoco infinito io posso mettere a fuoco più da vicino e vedete che l'obiettivo si allunga perché si sposta tutto in avanti vedremo poi meglio perché quindi abbiamo come regolazioni il diaframma il tempo di posa la messa a fuoco poi abbiamo altri pulsanti di servizio per così dire e poi qui vedete abbiamo la sensibilità vedete che qui c'è scritto ISO ora può capitare che voi troviate in giro scritto che la sensibilità della pellicola anche per macchine digitali è un parametro indipendente in verità è un errore non è vero perché nel caso della pellicola questo era vero perché se io cambiavo la pellicola la pellicola era fatta sostanzialmente di grani di ologenuro d'argento e quindi questo significava che io se avevo una pellicola più sensibile cosa vuol dire più sensibile che permetteva per esempio di fare fotografie con meno luce anche al buio per assurdo quasi al buio se io mettevo una pellicola più sensibile la pellicola era formata con granuli di ologenuro d'argento più grandi proprio fisicamente più grandi perché fisicamente più grandi perché la pellicola funziona con la stessa idea del sensore digitale e cioè i fotoni colpiscono questi granelli di ologenuro d'argento quando li colpiscono inducono una trasformazione chimica chiamata sviluppo latente immagine latente dopodiché lo sviluppo vero e proprio del fissaggio provvederanno ad amplificare enormemente questo procedimento latente e ottenendo l'immagine finale quindi questo significa che il numero di fotoni che cade sul granello dipende ovviamente dal tempo di posa dal diaframma cioè dalla dimensione del foro e dalla dimensione del granello perché più grande il granello più fotoni cicateranno sopra ok quindi nel caso della pellicola la sensibilità è a tutti gli effetti un parametro naturalmente aumentare la sensibilità significava aumentare la dimensione del granulo e quindi diminuire anche la risolvenza della pellicola vabbè ora nel caso del digitale che è la situazione attuale questo non è più vero perché i pixel hanno sempre esattamente la stessa dimensione perché sono ovviamente costruiti sul sensore non posso cambiare il sensore potrei in teoria ma non ha nessun senso quindi questo significa che il sensore è sempre grande o uguale i pixel sono sempre grandi o uguali e se sono sempre grandi o uguali raccolgono sempre lo stesso numero di fotoni quindi il fotone cade sul pixel si converte in foto elettrone e rimangono nella buca di potenziale del pixel degli elettroni sostanzialmente dei foto elettroni dopodiché questi foto elettroni devono essere trasformati in un valore numerico come si fa? questi foto elettroni sono di fatto una corrente e quindi la corrente viene misurata quindi con dell'elettronica a bordo del Cimosso del CCD questa corrente viene misurata per misurarla la si può anche amplificare ok? benissimo quindi se la si amplifica ci sarà un amplificatore tutti gli amplificatori ovviamente hanno un guadagno e hanno anche un rumore nel momento in cui io amplifico la corrente non faccio altro che per esempio supponiamo di avere 100 fotoni li raddoppio ne ho 200 ma questo non significa che siano caduti più foto elettroni significa solo che io ho raddoppiato il numero di elettroni per amplificazione ed esattamente come succede con uno stereo se io aumento il volume in realtà non sto aumentando la qualità dell'immagine sto solo aumentando il volume se aumento troppo il volume tutti noi sappiamo che dopo un po' l'altoparlante distorce e quindi noi non abbiamo in realtà ottenuto un bel niente e qui la stessa cosa quindi nel caso del digitale gli unici due parametri utilizzabili sono il diaframma e il tempo di posa ora voi direte già però se io con una macchina fotografica digitale cambio la sensibilità della pellicola digitale cambia il risultato e sì ma questo è dovuto al fatto che i sensori moderni sono in buona parte imperfetti nel senso che sono il diciamo che il guadagno dell'amplificatore riesce ad influenzare favorevolmente o sfavorevolmente la qualità dell'immagine finale a seconda del tempo di posa ora questo è dovuto al fatto che il sensore purtroppo non è ancora nella sua forma migliore i migliori sensori attuali che sono principalmente quelli prodotti da Sony e quindi montati anche su fotocamere Nikon per quanto riguarda le fotografie la classica fotografia digitale ma tutti i sensori analoghi soprattutto prodotti da Sony che è un po' leader di mercato per le varie telecamere industriali sono sensori che hanno sono diciamo di ultima generazione e sono molto validi così validi che possono essere considerati ISO invarianti se voi andate a cercare su internet questo termine scoprirete che ISO invariante significa che la qualità dell'immagine che voi ottenete non dipende dagli ISO cioè dalla sensibilità che voi avete messo sulla macchina digitale per cui se voi scattate una fotografia a 100 ISO e poi col Photoshop aumentate l'intensità della luce ottenete lo stesso risultato per esempio di due diaframmi quindi a ISO 400 ottenete lo stesso risultato che otterreste scattando la foto a ISO 400 questo perché si dice che ISO invariante non tutti i sensori sono ISO invarianti anche quelli che lo sono non lo sono completamente però in futuro si andrà sicuramente sempre più verso questa direzione quindi questo dimostra sicuramente che gli unici due parametri sono il diaframma e il tempo di posa ora completiamo questo ragionamento passando ad un sistema digitale giusto per farvi vedere che funziona esattamente nella stessa maniera vedete questa è una telecamera digitale industriale ovviamente e funziona esattamente nello stesso modo questo è il suo obiettivo è molto più piccolo dell'obiettivo della reflex vedete e ovviamente questo obiettivo si smonta l'altro è un attacco a baionetta come le baionette dei fucili questo invece è un attacco a vite chiamato passo C dove C sta per cinematografico ok in effetti questi sono obiettivi che volendo si potrebbero montare sulle vecchie macchine cinematografici sulle vecchie cineprese allora vedete che qui c'è scritto 25F1.85 poi questo è il codice dell'Einmon Optics ora guardate qui adesso il diaframma è 1.85 se io lo chiudo a F4 vedete cosa è successo si è chiuso però se voi confrontate questo F4 con l'altro vedete che l'altro F4 è grande il doppio perché è grande il doppio perché la focale qui è 25 mm mentre dall'altra parte era 50 ok quindi voi fate 50 diviso 4 fa 12,5 25 diviso 4 fa poco più di 6 che questo qua ok però il concetto è esattamente lo stesso poi anche qui c'è la messa a fuoco vedete che io se metto a fuoco l'obiettivo vedete vedete che qua c'è scritto allora io se vado se giro per così quindi verso destra vado verso infinito vedete che l'obiettivo si accorcia poi giro in senso opposto e vedete che l'obiettivo si allunga ok e qua c'è scritto 200 mm che è la distanza minima dopodiché io a questo punto vedete qui c'è il sensore protetto da un vetro di protezione dopodiché vedete che qui io ho la presa USB e poi questo si chiama GPIO che è sostanzialmente diciamo una porta che serve per controllare la telecamera in alcuni casi speciali per esempio per il trigger però vedete che qui non abbiamo controlli visibili salvo il diaframma che è qua regolarmente esattamente come nella macchina fotografica nelle macchine fotografiche moderne il diaframma non è più visibile perché è quasi tutto elettronico mentre qui nelle telecamere industriali è ancora perfettamente visibile poi a parte la messa a fuoco quindi vi avevo detto ci sono due parametri il resto è il tempo di posa l'altro parametro è il tempo di posa dove vado a prendere il parametro del tempo di posa? beh ovviamente tramite il programma che controllerà vedete questo è il foro per il treppiede il programma che controllerà la telecamera ma questo lo vedremo poi non appena faremo delle prove in merito ora volevo finire questa piccola parte dopodiché vediamo più direttamente che cosa noi cercheremo di fare durante il laboratorio quindi vi avevo detto questa fotografia è stata scattata con un'apertura piena di 120 mm questa è stata fatta diaframmandola cioè chiudendo il diaframma che in realtà qui non c'è un diaframma è stato messo un disco forato davanti e quindi qui passa solo più 53 passano solo più 53 mm perché 53 mm? perché il tappo di questi telescopi è utilizzato per ripresa del sole e quindi un f20 e quindi circa 53 mm ok? ora se voi confrontate il 120 con il 53 si vede molto chiaramente che il 120 è molto più nitido ma molto più nitido se invece noi facciamo un altro esperimento ancora e cioè teniamo l'apertura da 120 però mettiamo qualcosa davanti ok? è come se noi prendessimo la lente e gli appiccicassimo un bollino davanti che è una cosa un po' da criminali in realtà in questo caso io avevo semplicemente messo un oggetto davanti ok? una diciamo un dischetto tondo tenuto fermo naturalmente da una bacchettina perché non può stare a mezz'aria ebbene con questa istruzione si può vedere che la risoluzione vedete qui vedete se io vado a prendere la risoluzione qua vedete che il 2 è tutto visibile il 3 vedo il 3 1 3 2 3 3 e il 3 4 è borderline vi ricordo che questa cosa è soggettiva ok? quindi il 3 4 ma non tanto bene se noi andiamo a guardare questo quindi da 53 vedete che abbiamo il 2 1 il 2 2 anzi scusate il 2 1 è questo quindi questo è il 2 2 quindi 2 3 questo già non lo vediamo più quindi qui era 3 4 e qui era il 2 3 se noi invece andiamo in quello ostruito quindi con un oggetto davanti ma con a piena apertura vedete che torniamo sul 3 3 1 3 2 3 3 3 4 più o meno come prima ok? quindi questo significa che paradossalmente se anche io metto qualcosa davanti all'obiettivo non cambia nulla quello che invece cambia tutto beh si fa per dire non cambia nulla naturalmente comunque cambia poco mettiamola così mentre invece se io riduco l'apertura è un disastro ok? bene quindi allora a questo punto noi cosa vogliamo fare? vogliamo in laboratorio proprio fare questo tipo di calcolo ok? come facciamo a fare questo tipo di calcolo? abbiamo visto che l'abbiamo visto con la ISO in modo soggettivo ok? e va bene però ovviamente non è sufficiente vorremmo tentare di farlo in modo oggettivo ora come faccio a fare un calcolo del genere in modo oggettivo? allora vi ho detto prima che io ho una scatola nera e infilo dentro un segnale sinusoidale di ampiezza nota e vado a vedere l'ampiezza del segnale sinusoidale in uscita ora abbiamo visto prima che c'erano le mire USAF che sono dei segnali onda quadra però ci sono anche delle mire speciali molto costose che sono di tipo sinusoidale eccolo qua vedete? questo è un target di tipo sinusoidale montato su vetro vedete? da 3,775 80 cicli al millimetro allora noi lo apriamo e andiamo a prendere la mira in questione eccolo qua allora se io adesso mi avvicino moltissimo ecco qua sono praticamente a un centimetro e mezzo di distanza allora vedete che la queste vedete sono è una mira sinusoidale vedete? frequenza più bassa frequenza un po' più alta vedete? qui comincia la frequenza un po' più alta poi qui inizia la frequenza ancora più alta e così via vedete che diventano sempre più frequenti sono sinusoidali ma faccio già un po' di fatica a vederla dopodiché qui insiste diventano sempre più fitte vedete? qui la vedo ancora la vedo ancora la vedo appena 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 vedete comincia a fare l'aliasing non la vedo più si vede dell'aliasing ma non si vede nient'altro ok? quelle sotto invece sono delle zone a grigio costante quindi in sostanza se io volessi ottenere questo tipo di risultato potrei appunto diciamo mettere questo tipo fotografare questo tipo di schermo retroilluminandolo naturalmente e sulla base di questo io potrei ottenere la mia risposta e queste sono mire effettivamente sinusoidali ok? un po' come quella che avevamo visto sul libro il wear alla scorsa lezione ok? questo tipo di mire ha ovviamente delle sue caratteristiche se noi andiamo a guardare il foglio vedete a parte il prezzo veramente molto elevato vedete che qui sono spiegate zona per zona è spiegato che cosa quali sono le frequenze spaziali vedete si va da 800 l'A al millimetro scusate 80 quindi 160 l'A al millimetro fino a meno di una linea al millimetro perché è 0,375 cicli al millimetro quindi è meno di una linea al millimetro ok? queste invece sono densità ottiche servono a fare verificare il funzionamento del tutto quindi allora una possibilità era usare questo tipo di mira ok? l'altra possibilità quindi utilizzando un segnale sinusoidale però voi capite che è un sistema decisamente scomodo tra l'altro anche molto costoso ok? allora la soluzione migliore è utilizzare un target a diciamo slant edge cioè con uno spigolo inclinato questo sistema è semplice e può essere fatto con poco sforzo ora abbiamo visto che dato un segnale sinusoidale io dovrei andare a guardare la modulazione di uscita diviso la modulazione di ingresso se ci fossero delle dei shift temporali o spaziali questi verrebbero elencati dalla PTF la PTF non è l'MTF perché l'altra parte è quella diciamo legata alla parte immaginaria della funzione di trasferimento se voi avete delle PTF significative l'immagine viene danneggiata moltissimo se sono piccole non sono così facili da notare si vedono in fotogrammetria perché in fotogrammetria naturalmente volete proprio fare delle misure precise se voi invece modificate l'MTF di solito non c'è nessuna vera modifica significativa delle immagini ovviamente perde risoluzione quindi noi potremmo usare il nostro target sinusoidale e misurare la modulazione difficile e non è neanche tanto comodo per misurare l'MTF di tutto il sistema bene allora l'altra soluzione è questa allora supponiamo di fotografare un edge ok quindi uno spigolo quando noi passiamo dal nulla per esempio dal bianco al nero siccome fisicamente non è possibile passare da un segnale a 0 volt a un segnale a 5 volt istantaneamente ci sarà un fronte di salita noi potremmo andare ad amplificare allargare tantissimo quella parte campionare con grandissima precisione la parte in cui c'è il passaggio e sulla base di quella andare a vedere che frequenze ci sono lì perché sulla base di quelle frequenze che ci sono in quel punto non riusciamo a capire se il funzionamento è più o meno ottimale perché più il sistema funziona bene più il fronte di salita è veloce esattamente come può capitare in un oscilloscopio ora il problema è che normalmente io questa cosa la potrei fare con una delta cioè gli infilo un impulso infinitamente no quindi strettissimo ampiezza a 0 però con tutte le energie con tutte le frequenze quindi in teoria con un'energia infinita ovviamente questo è impossibile inoltre l'impulso che potrebbe essere per esempio una martellata su un sistema meccanico potrebbe essere in questo caso un impulso di luce quindi per esempio una luce che si accende poi si spegne però il fatto che poi rispegne la diventa complicato allora altrimenti l'altra soluzione potrebbe essere quella di usare uno step cioè un gradino quindi anziché calcolare la risposta all'impulso si calcola la risposta al gradino questa cosa che va bene poi dopodiché uno potrebbe applicare la trasformata di Fourier su quel gradino il problema qual è? è che a quel punto la trasformata di Fourier risulterebbe difficilissima da calcolare perché immaginate di avere tutti i pixel bianchi fino a un certo punto e poi tutti i pixel neri da quel punto in poi quindi questo cambio avverrebbe nel giro di un pixel rendendo ovviamente impossibile il sistema ok? avremo bisogno cioè di un campionamento con una precisione elevatissima e non ce l'abbiamo ok? ora il trucco qual è? noi potremmo ruotare questo edge di un piccolo angolo circa 5 gradi in modo tale da moltiplicare questa risoluzione e questo è esattamente quello che faremo ora vedete io ho il mio vedete questa è la parte nera questa è la parte bianca vedete che qui è quello che ok? la nostra mira un po' nera un po' bianca e io la inclino di circa 5,7 gradi ma questo angolo non è critico potete mettere anche un angolo un po' maggiore un po' minore non succede niente ora siccome vedete se supponete di avere il nero esattamente a metà di questo pixel voi avreste interessato di fatto un pixel ok? perché avreste bianco nero e poi un grigio basta fine la transizione avrebbe così se io lo inclino un po' vedete cosa succede? succede che di pixel interessati c'è questo che è quasi tutto bianco questo che è quasi tutto nero e poi via via sempre meno nero pochissimo nero di nuovo tutto nero quindi avendo a disposizione tutti questi pixel io posso effettuare questo calcolo su molti molti più pixel e quindi il mio campionamento è molto più accurato che senza la rotazione e quindi il risultato diventa molto più preciso ok? ebbene il risultato che si ottiene è una cosa di questo genere quindi in ordinata mettiamo l'MTF che può essere per esempio il 100% a frequenza 0 e poi quindi significa che tutto quello che entra esce quindi se io li metto per continuare il paragone con l'analogico gli metto 3V picco picco escono 3V picco picco invece a frequenza spaziale maggiore me ne passerà per esempio il 50 3V picco picco entrano 1,5V picco picco escono ok? e così via vedete a seconda del diaframma mi cambierà la curva quindi voi dovrete produrre diciamo costruire uno di questi edge ok? poi vedremo la prossima volta molti altri dettagli in merito però non ovviamente non servono per il laboratorio quindi voi dovrete produrre uno di questi edge e poi tramite opportuni programmi calcolare questa questo MTF ora come potete fare a calcolare questo MTF beh il programma standard a livello industriale si chiama ImaTest programma molto costoso fino all'anno scorso l'abbiamo usato in laboratorio perché ci avevano regalato delle licenze quest'anno chiaramente in ogni caso non possiamo procedere in questo modo utilizzeremo un altro programma che peraltro è in grado di ottenere dati di qualità del tutto paragonabile all'ImaTest l'unico difetto rispetto all'ImaTest è che non è lo standard industriale al mondo e quindi non lo troverete nelle aziende e poi è un po' più macchinoso un pochino più scomodo da usare però il risultato ha la stessa identica bontà quindi questo ImaTest è in grado di calcolare sostanzialmente la risposta in frequenza quindi sostanzialmente il MTF in grado di misurare anche le aberrazioni cromatiche questo è l'ImaTest e l'unica cosa che serve è questo slanted edge ok e c'è ovviamente moltissima documentazione allora questo è uno dei risultati che si possono ottenere vedete il nostro MTF potrebbe essere una cosa del genere ora però concentriamoci ripeto questo rivedremo poi la prossima volta però io adesso mi andrei a guardare esattamente quello che dovreste riuscire a fare in laboratorio ora innanzitutto dovete costruirvi una mira quindi si vuole un foglio di carta stampato metà nero e metà bianco io l'avevo fatto col Gimp ho preso un foglio A4 metà nero facendo il fill e il resto lasciandolo come fondo di bianco allora qui la qualità l'avevo ottenuto questa stampa tramite una stampante laser a colori che ha dato decisamente vedete anche la carta è carta buona scelta apposta la carta buona vedete se voi andate a guardare qui da vicino la precisione è molto buona ok quindi voi sostanzialmente dovete fotografare questa mira non però messa così un po' inclinata ok fotografate la mira e una volta ottenuto la fotografia dovete trattarla tramite il programma che fa i calcoli che come vi dicevo non è l'Imatest ma si chiama MTF Mapper ok quindi adesso vedremo brevemente come fare quindi questa mira la potete stampare su carta in qualsiasi maniera è ovvio che più è stampata bene meglio è per tutti se sfortunatamente voi non doveste avere viste le condizioni a disposizione della stampante l'unica possibilità che vi rimarrà sarà come quella esattamente per l'ISO 12233 sarà quella di fotografare il video del computer quindi mettetelo pure in orizzontale la riga quindi mettete metà schermo nero metà schermo bianco e non è dopodiché semplicemente inclinate la macchina fotografica perché se voi create una riga inclinata sul display non va bene perché si vede tutta la scalettatura invece in questo modo è molto più nitida lo mettete orizzontale anche qui io la stampa non l'ho fatta inclinata l'ho fatta dritta perché così è più nitida e poi incliniamo il foglio ok così il risultato è migliore benissimo andiamo a vedere allora cosa possiamo fare come possiamo procedere allora io per effettuare questi test allora siccome mtf mapper è un programma molto raffinato che gira prevalentemente sotto linux e sotto macOS può girare anche sotto windows e open source licenza bsd può anche girare sotto windows ma richiede di fatto l'uso di una macchina virtuale e quindi io l'ho installato sotto linux io uso in generale le macchine virtuali per fare questi esperimenti quindi ho usato una macchina virtuale ora che cosa dovete scaricarvi beh innanzitutto dovete installarvi una macchina virtuale linux vedete io qua posso chiudere senza troppi problemi ok quindi io posso vi dovete installare una macchina virtuale linux questo è un 1804 ubuntu dovreste essere ampiamente in grado visto che non state facendo informatica però se anche se per qualche motivo non foste in grado o semplicemente aveste fretta io vi ho messo a disposizione ho delle macchine virtuali già pronte allora scusate dove andate a finire qua allora io avevo realizzato un corso di azzeramento di informatica che comprende la creazione per i ragazzi del primo anno non è ovviamente il vostro caso però può tornare utile perché io nel corso di questi vari filmati che potete trovare questo indirizzo su Dropbox sono partito da zero ho scaricato un ubuntu e ho installato tutta una serie di cose dopodiché complessivamente sono circa 9 ore però ho messo a disposizione anche la macchina virtuale vedete il punto OVA di Virtualbox quindi se volete avere una macchina virtuale che non ha l'MTF mapper però è già completamente installata vi scaricate da questo sito Dropbox questo file sono circa 5 giga e ce l'avete già pronto ok dopodiché lanciate la macchina virtuale vi consiglio di fare l'update dei pacchetti perché in questa maniera avete fate anche l'update del repository dopodiché vi installate l'MTF mapper quindi andate su quest'altro indirizzo vedete è sostanzialmente SourceForge e dopodiché quindi questo è l'indirizzo sempre per Linux però avete anche le altre due se volete ora che cosa succede dopo aver scaricato il file vedete fate sudo dpkg e installate il file questo è per la 1710 ma vi consiglio caldamente la 1804 ok poi lanciate questa cosa lui cercherà di installare le dipendenze se anzi cercherà di utilizzare le dipendenze se le dipendenze però non sono state installate dovete installarle però potete fare semplicemente lanciare questo comando e lui provvede a installarle quando l'ho fatto io sulla macchina virtuale si è lamentato del fatto che non riusciva a trovare le dipendenze la ptget questo però era dovuto al fatto che i repository non erano aggiornati facendo l'update dei repository è andato tutto a posto come tra l'altro da lui suggerito quindi io ho fatto questa sudo dpkg poi ho fatto questo si lamentava ancora ho fatto l'update del repository e poi ho rifatto questo e a questo punto lui ha sistemato le dipendenze poi ho ancora rifatto questo per sicurezza funzionato completamente ok se poi invece volete installarvi un linux per i fatti vostri naturalmente non c'è nessun problema bene a questo punto dovete scattare la fotografia quindi dovete scattare la fotografia alla mira ok quindi dovete fare attenzione perché la mira deve essere pian parallela alla telecamera qui non lo è per i motivi che dicevo nel rapporto scorso lezione quindi già non va bene perché vedete che la messa a fuoco qui è diversa dalla messa a fuoco qui quindi c'è qualcosa che non va poi anche la prospettiva vedete che è errata quindi c'è questo la messa a fuoco deve essere molto precisa il tempo di posa deve essere tale da ottenere un istogramma impeccabile quindi un istogramma di questo genere ok e inoltre dovete accertarvi che la foto non venga mossa perché naturalmente se viene mossa siamo da capo un'altra volta e mi raccomando non così inclinata ok adesso andiamo a vedere cosa succede succede che io ho scattato una foto con la webcam chiaramente la webcam non è adatta per nulla per questo tipo di mestiere ma io l'ho utilizzata in modo tale da poter farci qualcosa e vedete che io sono nella directory l'ho poi copiata di qua e vedete che questa spigolo mtf tra l'altro notate che questo è un jpeg un'altra delle cose che vi consiglio assolutamente di evitare è quello di avere e di usare un jpeg perché naturalmente il jpeg non va bene per niente in quanto non è in grado di gestire correttamente il file perché è compresso e quindi non va bene per niente per questi scopi dopodiché io installo l'mtf mapper poi se io faccio mtf vedete lo faccio partire così questa è la lì e quella su linea di comando però se io faccio tab vedete che lui mi dice che ce ne sono due c'è quello su linea di comando e c'è quello con la graphics user interface per inciso se io faccio così vedete che mi mostra anche altri comandi che sono quelli che servono a creare sostanzialmente delle test chart perché l'mtf mapper è in grado di fare dei test molto raffinati non tanto raffinati quanto quello dell'immate spero molto raffinati andandosi a cercare automaticamente all'interno della fotografia quali sono gli spigoli da considerare e facendo delle mappature raffinate tipo quelle che forniscono i produttori di obiettivi per gli obiettivi comunque in questo caso noi ci limitiamo a fare qualcosa di molto più semplice lanciamo la graphics user interface benissimo adesso noi andiamo a vedere i preferences vedete che qui ci sono una serie di parametri ok l'unico vero parametro importante che dovete verificare è questo qua vedete pixel size 4 micron ora questo significa che voi state inserendo state per inserire una fotografia che è stata scattata con una macchina fotografica che ha un pixel size di 4 micron ora io qua faccio set però non è vero perché la webcam non ha 4 micron in realtà io non so quanti micron siano i pixel della webcam non lo so proprio però ovviamente quando voi scatterete le fotografie vi suggerisco caldamente di utilizzare dei sistemi che conoscete qui ovviamente l'ho fatto così per motivi di praticità quindi per esempio una fotocamera digitale o una telecamera se volete usare un cellulare usatelo pure e poi andatevi a cercare sui datasheet di quanti micron non è il pixel del cellulare dopodiché io vedete faccio file open single edge perché questo è un single edge carico per così lui fa il calcolo dopodiché io lo faccio partire in questa maniera vedete che lui ha funzionato se io adesso se io adesso vado a fare clic qui sopra vedete che mi fa vedere esattamente quello che volevo vedete in ascissa c'è la frequenza in cicli al millimetro line pair e in ordinata c'è il contrasto che parte da 1 a frequenza 0 e poi piomba giù ok? va giù questi rimbalzi sono dovuti all'agliasing quindi non sono da considerare questi numeri in realtà sono privi di senso proprio perché come vi dicevo ho inserito 4 micron per la webcam ma non sono assolutamente 4 micron potrebbero essere 2 o anche meno non lo so ok? perché non mi è noto come è fatta questa webcam -comunque non è importante quello che conta è che una volta che voi avete ottenuto questo grafico lo dovete gestire opportunamente e potete vedete salvarlo salvare anche solo i dati fare una serie di cose potete usare la versione su linea di comando e per finire io vi consiglio oltre ovviamente a quello che è scritto sul laboratorio di provare ad acquisire queste curve per diversi diaframmi allora vi ho fatto vedere prima sia sulla macchina fotografica analogica a pellicola che su quella digitale che si può regolare il diaframma allora procuratevi una macchina fotografica su cui si possa regolare il diaframma perché altrimenti si perde gran parte del divertimento dopodiché provate a fare lo stesso calcolo con diversi diaframmi allora sulla base di quello che vi ho detto oggi il risultato migliore si dovrebbe ottenere con il diaframma più aperto possibile cioè con il numero più piccolo per esempio f1,4 oppure f1,85 sulla telecamera industriale dopodiché man mano che si chiude il risultato dovrebbe peggiorare sempre cioè il grafico dovrebbe scendere sempre più in fretta ok perché in teoria è un grafico assolutamente perfetto andrebbe da 1 a 1 qua in realtà non è vero perché non può neanche teoricamente però più è alto meglio è ok ora scoprirete in realtà che il grafico non fa esattamente quello che vi ho detto cioè che il risultato migliore in termini di MTF non è per l'apertura maggiore del diaframma ma è di solito due diaframmi dopo quindi non è a f1,4 ma magari f4 o qualcosa del genere ora questo cos'è dovuto è dovuto al fatto che questi obiettivi non sono per così dire perfetti come può essere invece un telescopio che è costruito per essere perfetto oppure anche un microscopio che anche lui è costruito per essere perfetto ovviamente con costi ben maggiori ora in questo caso quindi voi avrete che il vostro MTF dovrebbe essere ottimale diciamo entro a f4 e f5,6 puoi scendere bruscamente anche in modo vistosissimo a f11 e f16 e invece essere buono o anche solo accettabile per i diaframmi più aperti vi consiglio anche di provare a misurare l'MTF cambiando la messa a fuoco vi renderete conto che basta un piccolo errore nella messa a fuoco per creare grossi problemi altra cosa la planarità vedete io vi ho detto qui che il piano di messa a fuoco non è corretto come fare a verificarlo potete qui appoggiare un piccolo specchietto e se lo specchietto è perfettamente piano ed è appoggiato al tavolo quando voi lo inquadrate dovrete vedere la webcam al centro dello specchietto al centro del foglio cioè dell'inquadratura in questo modo voi sarete sicuri che il piano del foglio è perfettamente ortogonale all'asse della telecamera questo richiede uno specchietto perfettamente piano non è ovviamente essenziale però questo era solo per dirvi che ci sono tutta una serie di criticità da considerare e da risolvere bene con questo direi che abbiamo terminato la prossima volta ripartiremo di qua e grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione